ben trovati a distanza di sette giorni mi ritocca parlare nuovamente dei colori gelorossi sette giorni fa un po per criticare la superficialità con la quale poi la roma a capovolto il risultato a danno del lecce questa volta invece in favore dei gelorossi per cui il detto la palla è tonda è sacrosanto ma questa volta credo la partita lecce milan debba far riflettere proprio la federazione del calcio italiana perché perché è giusto applicare il bar l'arbitro non ha fatto nulla contro perché quando avviene un incidente del genere chiamiamolo incidente ossia che un giocatore possa toccare anche col proprio piede un mignolo dell'altro si deve ricorrere al bar e il bar poi di fatto impone che quella visione determini poi un una scelta e quindi in questo caso anche un risultato cioè un pareggio anziché una vittoria pur essendo nel primo tempo 2 a 0 il lecce come ormai tutti sapete perfettamente a capovolto la partita andando prima al pareggio e poi addirittura facendo il terzo gol quel terzo gol lo straordinario tra parentesi che però è stato annullato perché il var lo ha deciso perché è vero che il giocatore giallorosso ha prestato ma non c'è assolutamente dolo e le immagini sono chiarissime il piede del difensore del milan per cui lo ha fermato e ha avuto la possibilità come dire di calciare quel pallone straordinario a quella distanza ma è anche vero che il calcio e contatto fisico e quando non c'è dolo non c'è cattiveria ma è movimento non può essere poi di fatto questo atteggiamento involontario motivo di cambio di risultato allora forse la tecnologia o perlomeno il regolamento attraverso si attua la tecnologia sul campo verde dovrebbe essere rivisto altrimenti ha sempre in modo sacrosanto ragione il presidente del lecce saverio sicchi damiani a dire che in ogni partita può entrare il bar e il bar può cambiare tutte le partite speriamo si rifletta anche su questo a domani